Buonasera a tutti, allora riprendo volentieri a fare video anche perché comunque superata la boa del primo agosto inizia a farsi sul serio in ottica calciomercato in quanto bisogna iniziare a stringere i tempi per poi arrivare al completamento della rosa come tutti sapete le difficoltà principali della Roma in questo momento sono due quella più grande forse riguarda gli esuberi mentre l'altra enorme difficoltà è quella del reperire il centrocampista che a livello ideale deve essere il titolare al fianco di Pere Tu dico a livello ideale perché sapete bene e l'abbiamo vissuto ampiamente negli ultimi anni che tra infortuni, squalifiche, ricadute ora c'è anche questo covid, tutte queste situazioni ti portano a non avere praticamente mai quella che nel tuo progetto iniziale era da intendersi come formazione titolare però sta di fatto che manca oggettivamente la figura da affiancare a Pere Tu detto pure che Pere Tu insomma non è proprio al meglio per usare un eufemismo dato che in sostanza sta fuori da Manchester e Roma dello scorso anno il suo precampionato fino a questo momento non è esistito perché sta facendo sempre un lavoro propedeutico al reinserimento in gruppo quindi in soldoni la Roma in questo momento non ha i due che nelle idee del nuovo tecnico dovrebbero rappresentare i centrocampisti titolari e quindi sta valorizzando e apprezzando i vari Darbo, Bove, Diawara, Villar che anche lui ha le prese con un piccolo infortunio ora c'è stato fortunatamente il rientro di Cristante comunque la situazione a centrocampo resta estremamente delicata anche perché non c'è nessuna intenzione di impiegare Pellegrini in quella zona del campo e dico io anche per fortuna perché il meglio sia con la Roma sia con la Sassuolo sia in nazionale lo ha dato quando ha agito dalla tre quarti in su il nazionale addirittura è stato impiegato anche come attaccante esterno e in una partita tra l'altro fece anche benissimo segnando all'Olanda una rete preziosa che ci ha permesso di ipotecare la qualificazione alle semifinali di Nations League detto questo come detto prima la situazione è particolarmente dedicata perché alla Roma manca una liquidità immediata da investire subito per chiudere determinate operazioni di mercato le difficoltà per Schaka le conoscete tutti oltretutto l'Arsenal nelle ultime ore secondo me anche in maniera abbastanza scorretta ha alzato la valutazione del prezzo del calciatore a 25 milioni quindi l'offerta complessiva della Roma tra l'altro che nell'idea della società giallorossa c'era anche di pagarla a rate arrivava massimo a 15 milioni di euro quindi capite bene di come ci sia enorme distanza tra domanda ed offerta perché come vi sto dicendo da giorni sui social, su Instagram per chi non lo sapesse il mio indirizzo è chioccio l'Andrea Pelagatti tutto attaccato per trovarmi su Instagram il problema non è solo nel costo del cartellino di un giocatore perché il calciatore può gastare anche 42 milioni come Schick non dico che debba avere il pessimo rendimento che ha avuto Schick ma per farvi un esempio solamente che, ripeto, lo vai a pagare in 700 miliardi di rate e di conseguenza diventa un prezzo per quanto enorme anche sostenibile ma quando vai a fare mercato con le società inglesi è difficile che accettino, come fa il Genova di Turno la Fiorentina di Turno queste operazioni rateizzate all'inverosimile e quindi è chiaro che devi andare a sborsare liquidità immediata liquidità immediata che la Roma in questo momento non ha in queste proporzioni e quindi non può risultare competitiva nell'affare per Schick e questa è una problematica che potrebbe causare non pochi problemi anche per Coopmeyers e per Zaccarie perché questi giocatori hanno una valutazione di mercato che almeno orientativamente è leggermente inferiore a quella di Schick che poi dovremmo anche adentrarci in un discorso tecnico perché parliamo di giocatori veramente diversi compatibili che potrebbero fermare un bellissimo centrocampo tutti insieme ma che non risultano essere esattamente uno l'alternativa dell'altro ma ad ogni modo prendiamola per buono questo fatto che dovrebbero essere i sostituti io so che in questo momento la Roma ha presentato un'offerta un'offerta sia per Coopmeyers sia per Zaccaria ora dalla risposta dei rispettivi club capiremo la fattibilità o meno di queste operazioni perché se questi club andranno a accettare un'operazione a lascio mudro o come faccio sempre ad esempio io ma non per metterli sullo stesso piano ma per far capire la formula del pagamento la chiesa costa il valore di mercato è 50 milioni ma la Juve in questi 50 milioni li darà in un secolo e quindi un conto è dare 50 milioni in molto tempo un conto è presentarsi lì con subito 30-40 milioni è tutto un altro discorso quindi se le società di questi due ragazzi accetteranno una situazione simile la Roma potrà anche arrivare a Dama e portarli a casa in caso contrario si rischia di incorrere in uno stallo come quello per Sciacca fermo restando che se nel frattempo avviene un miracolo che tu riesci a vendere i vari Pedro, Zonzi e compagnia cantante Lorenzi e compagnia cantante allora lì la situazione potrebbe cambiare in maniera radicale vi ringrazio per l'attenzione e se avete piacere iscrivetevi al mio canale un abbraccio